Intanto cosa pensi di questa riflessione su, ecco lo vediamo, sulle nuove misure anti-Covid? Allora guarda, sulle misure anti-Covid, oltre a registrare, come hai ricordato anche tu prima, una divisione all'interno del governo su come affrontare i prossimi weekend, io penso che più che fare nuove restrizioni bisogna aumentare i controlli. Cioè al di là, come dire, della sioma che prima si procede rapidamente con il piano vaccinale, prima si esce da questa pandemia, tu adesso non si può pensare di gestire la situazione attuale continuando a chiudere e ritornando a una situazione come quella di marzo scorso? Per due ordini di motivi, il primo forse perché a differenza di marzo scorso abbiamo una sorta di controllo della pandemia, cioè il personale medico sanitario che è stato vaccinato abbiamo visto che ha avuto un'incidenza di ritorno della malattia quasi pari allo zero e quindi questo è già una prima risposta, cioè non siamo nell'emergenza, ma forse non nell'emergenza di un anno fa. Quindi forse usare lo stesso criterio che si è usato prima, cioè la chiusura indiscriminata, può costituire un problema. Poi sul tema delle vaccinazioni, proprio l'altro giorno, il Sole 24 Ore, nella sezione Norme e Tributi, ha pubblicato uno schema molto interessante sulle vaccinazioni del personale scolastico nella scuola. Questo per dire lo spread, la differenza che c'è tra regione e regione. Allora non so se la Camera lo riesce ad inquadrare, ma è assolutamente plastico il dato che ad esempio la Toscana ha fatto il 69% delle vaccinazioni del personale scolastico, la Lombardia sta all'1%. Allora tu hai al primo posto Toscana, Puglia, Umbria, Campania, Friuli, Venezia, Giulia. All'ultimo posto la Lombardia. Allora questo dimostra due cose. Primo, che effettivamente ci vuole, come ricordavi tu, a livello nazionale una regia che cerchi di trovare criteri unici da raccalmuto a Bergamo Alta per far sì che il sistema delle vaccinazioni funzioni. Due, che purtroppo, come dimostrano questi anni del Sole 24 Ore, non è vero che esiste un modello lombardo dell'eccellenza, cioè esiste un modello lombardo dell'eccellenza per quanto riguarda medici e investimenti sanitari. Cioè è evidente che la Lombardia... Però nell'organizzazione, mettiamola così, e cito a questo proposito, voglio fare una postilla... Non è il Sole 24 Ore che la ricorda. No, io faccio una postilla, invece cito la direttrice del giornale di Brescia, che è una giornalista, fa il direttore di questo giornale. L'altro giorno alla radio che cosa ha detto? Ha detto da noi, Lombardia, ricordiamoci che Brescia è una delle zone più colpite, no? In questa terza ondata, ammesso che sia la terza ondata. E ha detto testualmente, da noi non mancano i vaccini o i vaccinatori. Il problema sono le prenotazioni, il centro prenotazioni. Quindi l'organizzazione. L'organizzazione. Tanto che la Lombardia si è dovuta affidare, credo, alla piattaforma delle poste, che è una piattaforma che moltissime regioni adesso stanno adoperando per le prenotazioni. Perché c'erano poi i paradossi che magari uno che abitava in una zona della Lombardia, aiutami a dire quale, quale doveva andare a 30 km da un'altra parte per vaccinarsi. No, no, ma è chiaro. Tanto per capirci. Allora, facciamo...